Ed è polemica nel PDL per le parole di Mario Mantovani che ha accostato la signora Rauti alla Minetti. L'iniziale sfida tra Roma e Milano si allarga a tutto il PDL nazionale con la discesa in campo delle donne del PDL in difesa della Rauti. Ed in difesa della moglie delle Mano si schiera Viviana Beccalossi, vice coordinatore regionale del PDL, che sconfessa il suo diretto superiore a Mantovani. Conosco la storia di Isabella Rauti, donna che stimo per il suo attaccamento alle istituzioni, il suo impegno politico e culturale a difesa dei valori e dell'identità della storia della destra italiana. Meretta il massimo rispetto. Altra storia è quella di Nicole Minetti, precisa la Beccalossi, scende in campo Roberto Angelilli, quella di Mario Mantovani verso Isabella Rauti. È stata un'aggressione verbale assolutamente inaccettabile, taglia corto il membro della direzione nazionale PDL e vice presidente del Parlamento europeo Angelilli. a Isabella Rauti, che è donna di grande competenza e professionalità, che ha saputo distinguersi in tutti i ruoli politici e istituzionali ricoperti nel corso della sua lunga esperienza politica. L'europarlamentale Angelilli ha esposto tutta la sua stima e la sua solidarietà alla signora Rauti.